Buonasera, sono Alfonso Ottomana in qualità di Presidente della Nazionale Italiana Poeti. Siamo qui oggi per iniziare un percorso e nuovi eventi. Tengo a precisare che siamo una realtà, a prescindere che dobbiamo portare in giro la poesia, il rapporto pure umano tra le persone, ma soprattutto portare sui campi sportivi anche la legalità. Oggi, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo, mi sta scomparendo. Ringrazio Giancarlo Restivo di avermi dato questa opportunità e mi auguro di iniziare presto questa nuova avventura. Grazie. Abbiamo preferito credere che un pallone possa unire, che la vita non...